Isolarizza, azienda agricola familiare di Giampiero che assieme al figlio Giacomo alleva bovini da carne. Un'azienda di 1200-1300 capie con la gestione di 300 ettari di campi utilizzati per l'alimentazione degli animali. Eppure anche qui i rincari di luce e gas, ma non solo di quelli, pesano sulla gestione dell'azienda. Noi stiamo trovando grosse differenze nel costo che va sia dalle materie prime che usiamo per gli animali, per l'alimentazione, quindi dalla soia, dalle polpe, dai distiller, sia il costo del gasolio, sia il costo dell'acquisto dell'animale, sia il costo delle energie. Nonostante sia inverno, adesso si può vedere tranquillamente, noi abbiamo tutto un sistema di ventilazione che facciamo funzionare tutto l'anno per poter comunque garantire sempre una determinata ossigenazione degli animali per un discorso di benessere, però è sempre energia. Gasolio, stavamo parlando ieri con i miei fornitori per l'acquisto degli animali, anche per il trasporto mi chiedono sempre un aumento perché a loro il trasportatore ovviamente ha chiesto un aiuto per l'aumento che anche loro hanno dovuto sopportare. Cosa comporta tutti questi aumenti? Miracoli non li fa nessuno, dobbiamo per forza alzare anche noi il valore della nostra produzione, dobbiamo dargli un valore maggiore. Secondo Coldiretti per coltivare, gli agricoltori sono stati costretti ad affrontare rincari fino al 50% per il gasolio e secondo le stime dell'autority per l'energia, l'elettricità nell'ultimo trimestre è salita del 55%, rincari che si fanno sentire. Noi cerchiamo di difenderci con dei contratti a lungo periodo però per fare un esempio se io devo fare una razione oggi comprando tutte le materie prime sul mercato e non potendo contare magari sul mio stoccaggio che siamo magari verso fine stagione con certi prodotti o su contratti che per per accordi sono finiti, ci costa un euro, un euro e cinquanto ormai se buttiamo dentro anche il costo energetico, il costo dell'autotrazione. Un animale ha un ciclo di 200 giorni vuol dire che questo animale costa a me 300 euro in più rispetto all'anno scorso o a un anno e mezzo fa. Io non ho la capacità di sostenere questo aumento. Non ritengo neanche opportuno continuare a dare soldi a caduta per poter sostenere perché noi non stiamo chiedendole l'emosina, il nostro lavoro è dignitoso, deve stare così, noi dobbiamo farci alcune nostre energie però dobbiamo capire perché tutti questi rincari si sono causati da veramente speculazioni, da necessità, da un ricambio energetico che tutti noi sosteniamo ma bisogna capire appunto con che costi e di conseguenza cercare delle soluzioni che ci diano la possibilità a noi di poter lavorare senza dover chiedere aiuto, senza dover chiedere l'emosina a nessuno. Grazie a tutti.